un ruolo come opposizione non soltanto di pungolo alle iniziative del governo, di critiche in contrasto a quelle a cui non siamo d'accordo, ma anche proprio quello di presentarci come un'alternativa credibile. Questa è una parte fondamentale nella democrazia e quindi io colgo questo suo invito anzi a provare a tirare un filo su alcune delle questioni che i colleghi hanno sollevato e che ci trovano pienamente d'accordo. Anzitutto sull'approccio pragmatico che prima ha indicato Carlo Calenda, io ho una formazione nel Parlamento europeo dove come sapete bisogna costruire le maggioranze dossier per dossier e bisogna farlo senza presudizi, stando sul merito delle cose, sulla concretezza dei contenuti. È un approccio che condivido molto, è un approccio che recentemente ci ha portato proprio nel dialogo anche con Carlo e con le altre forze politiche ad arrivare a chiudere alcune importanti alleanze per le prossime regionali, da ultimo proprio la Liguria dove abbiamo messo al centro alcuni temi per chiarirci su quello che vogliamo e possiamo fare insieme.